Vallefoglia d'autunno, tartufo, olio nuovo, fungo e melograno, seconda edizione della mostra mercato a Montecchio di Vallefoglia, la bontà ai prodotti e i profumi della stagione proposti dagli espositori più ricercati in piazza della Repubblica, un'occasione unica, Montecchio di Vallefoglia mette in scena l'autunno, il 4 e il 5 dicembre, peccato non esserci!